E buongiorno, oggi è il giorno di Italia Uruguay, siamo qui con una bella ragazza vestita di rosso, The Woman in Red Senti, come ti chiami? Giada Giada, un pronostico, hai seguito questi mondiali innanzitutto? Sì Sai che oggi c'è Italia Uruguay, no? Che è decisiva per vedere se l'Italia va avanti o torna a casa Allora, hai seguito, l'hai visto le partite? Sì, guarda, l'ultima no L'ultima no Lavorato Ah, lavorato perché lavori qui al centro commerciale Secondo te oggi l'Italia che fa? Pareggia Pareggia, cioè aspetta un momento Perché il discorso è questo, Giada Oggi pure, no, già è vero, no, oggi si può pareggiare No, la so io che so ignorante, hai ragione, scusa Quindi pareggiando l'Italia passa No, perché ancora non siamo, so io che so svegliato da poco, c'hai ragione Pareggia quanto? 1 a 1 1 a 1 chi segna? Ah no, sono proprio qualche anno, non lo so Beh, chi conosci di attaccante forte dell'Italia, un po' abbronzato? Alla pelle Alla pelle, quindi non so che segnare lui Va bene, quindi allora tu dici 1 a 1 e l'Italia passa Ok, grazie, e invece i mondiali chi li vinci? Io Alla pelle Alla pelle Alla pelle